Buongiorno, continua la lettura del capitolo 12 di Marco, oggi versetti dal 35 al 37. È Gesù che parla e brevemente contesta gli scribi, gli scribi dei giudei, esperti della Sacra Scrittura, i quali affermano che il Cristo, il Messia, è figlio di Davide e non è Signore. Figlio di Davide è un'espressione importante, significa prima di tutto appartenente al popolo ebraico, appartenente al popolo eletto, dunque discendente della dinastia di Davide, che è il re per eccellenza nella storia di Israele. Ma figlio di Davide significa anche sottomesso a Davide, come che il padre Davide è più grande di lui, è più potente, più forte. Per gli scribi dunque, il Messia, il Cristo, è in qualche modo dipendente da Davide, né riporta la tradizione, né un'espressione attualizzata, ma comunque è qualcuno che viene dopo di lui. Gesù invece afferma, e la sua citazione è proprio dalla Sacra Scrittura, che il Messia è Signore di Davide, e Signore significa Dio. Gesù utilizza, per affermare questo, la fonte, la prova, che è inconfutabile proprio per gli ebrei, per i giudei, la Sacra Scrittura, appunto. Per noi oggi, che ragioniamo con una mentalità molto diversa, che mettiamo continuamente in dubbio ciò che è scritto nella Sacra Scrittura, che cerchiamo le cosiddette prove scientifiche di quanto accade, di quanto si afferma, che facciamo, insomma, fatica a fidarci, a credere, quello che Gesù afferma comunque ci rimanda una responsabilità e una domanda grande. Chi è per noi Gesù? Il Messia? Il Messia come uomo speciale, come eroe della storia, come profeta meraviglioso? Oppure è Dio? La risposta a questa domanda è decisiva. Molti cristiani vivono come se Gesù non fosse Dio. Molte persone vivono come se Gesù fosse uno fra i tanti che hanno segnato la storia dell'umanità. Lo guardiamo con ammirazione, con rispetto, ma non molto di più che quanto diamo ammirazione e rispetto a altre figure straordinarie della storia dell'umanità. Per il cristiano, in realtà, Gesù è Dio. È Dio fatto uomo. È Dio incarnato. È Dio morto e risorto per noi. Guardare a Gesù come il volto di Dio che si manifesta nella storia è vedere sconvolta tutta la nostra prospettiva, perché è un Dio davvero strano, un Dio che si fa uomo, un Dio che si fa piccolo, un Dio che si fa vittima, e tutto questo per amore. Portiamoci dentro con serietà questa domanda, anche oggi, senza paura di lasciarci mettere in discussione chi è per me Gesù. È veramente il Signore, il Risorto, il Dio che mi salva. Buona giornata.